Grazie a tutti. Benvenuti, bentornati, be' Maria. Siamo a una nuova puntata del ciclo di Catechesi Girare nella Divina Volontà. Siamo alla terza puntata. Ricordo che questo ciclo di Catechesi si inserisce nella serie di cicli che, per grazia di Dio, speriamo, nella maniera meno indecente possibile, lo speriamo ancora di più. Ho fatto su questo argomento, mi permetto ancora di ricordare l'ordine cronologico, che è anche un ordine cronologico, è un ordine logico, e anche a mio avviso è un ordine proprio strutturale, che è bene eseguire, specialmente per chi non conosce bene ancora la Divina Volontà. Il primo ciclo di Catechesi Sistematica si chiama Il Dono della Divina Volontà e serve proprio a presentare una panoramica di questa vita attraverso le rivelazioni fatte da Gesù alla serva di Dio, lui servì Carreta. Il secondo è stato Adamo e la vita nella Divina Volontà, che approfondisce il contenuto fondamentale di questa rivelazione, che è appunto la possibilità di vivere una vita di unione con Dio molto simile a quella che hanno perduto a causa del peccato i nostri progenitori. La terza serie, che è quella che ha preceduto questa, è quella particolare operazione interiore insegnata da Gesù, che è il fondersi della Divina Volontà, di cui i giri che stiamo affrontando in questa serie sono una, se non l'unica, forma ed espressione. Sono delle forme particolari di preghiera, come abbiamo già cominciato a vedere, finalizzate a fare il pieno di amore di Dio, se vogliamo sintetizzarle con uno slogan, e imparare anche a ricambiare l'amore di Dio ricevuto infinitamente dal Signore, sparso nelle sue opere e nelle sue creature. Bene, veniamo subito al testo di oggi, il primo dei testi di oggi, vediamo se riusciamo a farne un paio, che è dal volume 11, 23 aprile 1912. Ricordo sempre che sto seguendo il testo, girare nella Divina Volontà per dare all'amnistà suprema il ricambio di amore ad ogni suo atto, che è una selezione di brani tratti dal libro di Cielo, appunto, della serva di Dio, Luisa Piccarreta, la piccola figlia della Divina Volontà. Presumo, ecco, ne sono quasi certo, insomma, non vorrei sbagliare, che come molti testi di questo genere, la compilazione sia stata pazientemente realizzata, insomma, anche grazie alle straordinarie conoscenze che ha sul campo, dal padre Don Pablo Martin. È facilmente reperibile online, quindi volesse poi eseguire un po' meglio, sia in diretta che in differita, proprio queste condivisioni, avendo il testo davanti, può facilmente reperirlo sul web. Finga mia, il mio amore per la creatura è grande, vedi come la luce del sole invade la terra? Se tu potessi fare di quella luce tanti atomi, in quegli atomi sentiresti la mia voce melodiosa che ti ripeterebbero uno presso l'altro, ti amo, ti amo, ti amo. In modo che non ti darebbero tempo a numerarli, resteresti affogata nell'amore. E di fatti, ti amo, ti amo, ti amo, io ti dico, nella luce che riempie il tuo occhio, ti amo nell'aria che respiri, ti amo nel sibilo del vento che percuote il tuo dito, ti amo nel calore e nel freddo che sente il tuo tatto, ti amo nel sangue che scorre nelle tue vene, ti amo nel palpito del tuo cuore, ti dice il mio palpito, ti amo, ti ripeto, in ogni pensiero della mente, ti amo in ogni azione delle tue mani, ti amo in ogni passo dei tuoi piedi, ti amo in ogni parola, perché niente succede dentro e fuori di te se non concorro il mio atto di amore verso di te, sicché un mio ti amo non aspetta l'altro, e i tuoi ti amo quanti sono per me? io sono rimasta confusa, mi sentivo assordata dentro e fuori ed a pieni cori dal ti amo del mio dolce Gesù, e i miei ti amo erano così scarsi, così limitati che ho detto oh mio amante Gesù, chi può farmi vi mai fronte, ma di quello che ho detto pare che non ho detto nulla, di quello che Gesù mi faceva comprendere, ora io stesso mi stupisco quando leggo questi brani, perché sono talmente tanti e talmente belli, però sono veramente tanti, a me piacerebbe assai, ritenerli tutti veramente quasi a memoria, perché alcuni sono veramente stupendi, cioè questo brano, il volume undicesimo, io non so se è minimo la terza volta che l'ho riletto, e sicuramente una volta l'ho anche meditato, perché siamo a vedere il volume diciassettesimo, però quando rivengono davanti queste cose, è un po' come la prima volta, anche perché il materiale è talmente tanto, probabilmente stanno sommersi, come dire, in qualche area ricondita della nostra anima, perché comunque queste cose, una volta che entrano, da qualche parte stanno, purtroppo la nostra sfera cosciente non sempre riesce a stare dietro a tutte le informazioni. Questo brano di oggi è semplicemente, questo brano che abbiamo letto è semplicemente spettacolare, meraviglioso, bellissimo, cioè è una rivelazione, come sempre, di niente di particolarmente nuovo, però di straordinariamente bello e davvero avvincente. Gesù ci dice qui che se solo noi sapessimo farci attenti, e la cosa bella è che Adamo, per esempio, questo lo sapeva fare, noi siamo affogati nell'amore, cioè dobbiamo proprio immaginare, noi immaginiamo una persona che stia affogando, quando una persona si trovasse, che ne so, in alto mare, nel mezzo dell'oceano, lo buttano da una barca lì in mezzo, quella affoga sicura al 100%, se ti buttano in mezzo al mare, nel mezzo dell'oceano, tu puoi essere anche il più grande nuotatore del mondo, ma sicuramente affogherai, d'accordo? perché se non c'è proprio nessuna speranza, perché le forze ti verranno meno, anche se è un fenomeno, e a un certo punto affogherai. Proprio l'idea dell'affogare, perché l'affogare vuol dire che a un certo punto uno va a fondo ed è, come dire, circondato, cioè talmente adatto che appunto muore, insomma, è travolto, d'accordo? Da questo mare incontrollabile, incontrollato di acqua. e questi sono i ti amo che continuamente Gesù ci dice. E la cosa che Luisa nota e che dovremmo notare anche noi e che anche la nostra risposta alla domanda di Gesù, i tuoi ti amo quanti sono per me? Io sono certo, vorrei tanto sbagliarmi, ma quanti saranno secondo voi chi ascolta questa meditazione? I battezzati che arrivano alla morte e un Gesù ti amo, proprio così come lo sto dicendo io adesso, non l'hanno mai detto. Anche chi ascolta questa condivisione, no? Quanti Gesù ti amo, tu hai detto? Quanti Maria ti amo, tu hai detto? E come li hai detti? quanti e come? Allora, qui Gesù ci dice, guarda, figlio mio, se tu potessi fare della luce del sole, attenzione, tanti atomi, allora, io non sono un astrofisico, d'accordo, però quel poco di cultura in fisica, insomma, acquisita a scuola ma è rimasta, no? Cioè, allora, già il sole è qualche cosa di immensamente grande, no? Cioè, ma, voi capite, andare a numerare gli atomi del sole o dei raggi di luce che ci arrivano, cioè, andiamo su numeri che, che te posso dire, metti 10 elevato alla, a 10 miliardi, capito? Cioè, per sapere, le potenze, insomma, cioè, basterebbe questo qui, cioè, ti ripeterebbero uno presso l'altro, ti amo, ti amo, ti amo, gli atomi della luce del sole, io invito ogni volta che sento parlare di atomi, no? Ripenso alle, alle catechesi del grande Enrico Medi, si trovano in giro online, se qualcuno vuole un posto facile, ecco, le trovate anche sul mio sito web, per chi non lo conosce, www.ronaldomariacompe.it nell'area di download, Enrico Medi era un grande astrofisico, cattolico, figlio spirituale di Padre Pio, gli ci stanno una decina di catechesi sue, ma sono veramente uno spettacolo, quindi da, come da scienziato, perché se gli scienziati fossero tutti quanti degni di questo nome, con tutto il rispetto, sarebbero tutti quanti cattolici e cristiani, e ci farebbero andare in estasi, d'accordo, perché la cosa più bella, per esempio, gli scritti di Luisa, in questo ci aiutano tantissimo, cioè, le cose che sono state dette qui, non è che sono le belle canzoncine, questa è la scienza più grande che esista al mondo, d'accordo? Il battito cardia con la circolazione del sangue è studiata dall'anatomia, dalla fisiologia, dalla medicina, capito? Ha delle leggi rigorose, ferree, ma dietro tutte quante queste cose, questa è proprio la provocazione continua che ci sono scritti, c'è un atto della divina volontà, e non soltanto, come dire, dietro tutto quello che accade, cioè dietro ogni linfocita, l'eucocita del mio sangue e del tuo, che scorre nelle tue vene, c'è un ti amo, nel nostro DNA, c'è un ti amo di Dio, in tutto ciò che ha a che fare, qui Gesù ha fatto riferimento soltanto a cose che coinvolgono in qualche modo le nostre percezioni sensoriali, la luce che riempie il tuo occhio, ti dico ti amo, ti amo, ti amo, tre ti amo, quindi il tre numero perfetto, nell'aria che respiri, noi non ci pensiamo, ma l'aria che respiriamo, così come è la sua composizione chimica, con l'idrogeno, con l'azoto, con l'ossigeno che ci sta dentro e con tutti quanti questi atomi combinati tra di loro che entrano dentro i nostri polmoni, insomma, che consentono tutte le cose meravigliose della respirazione, che io oggi parlavo, insomma, con un'anima e gli dicevo, ma lo dico, insomma, lo confesso, penso che chiunque conosce questi scritti sia normale che gli venga questi desideri, io se dipendesse da me, se ci avessi una giornata di 150 ore al giorno, d'accordo, mi comincerei a ristudiare l'anatomia, la fisiologia, la zoologia, la botanica, la fisica, l'astrofisica, la chimica, perché in tutte queste cose noi andremmo semplicemente a fare una overdose di continui ti amo di Dio, cioè le andremo proprio a centellinare, a conoscere, a riconoscere le mini particolari, no? io la chimica per esempio l'ho studiata pochissimo, pensavo che fosse una cosa sciocca, che non ci capivo niente, no? Quelle, come dire, confuse reminiscenze che ho di quei due o tre anni di liceo che l'ho studiata, per esempio come si compongono, tra l'altro adesso non vorrei dire degli sfondoni che se mi sente un chimico mi butta dalla finestra, no? Ma come si combinano fra loro gli atomi e le molecole, insomma, era uno spettacolo, tutti quanti quei disegnini strani che si facevano per far capire un po' le combinazioni chimiche? Cioè, chi legge quelle cose legge il libro di cielo, d'accordo? Della divina volontà, non è un modo di dire, perché in tutte quelle cose, cioè, capito? Cioè, c'è, ecco perché magari ci fossero degli scienziati, cioè, il mondo dovrebbe essere, come dire, un tempio a cielo aperto, capito? dove dinanzi a tutto questo stiamo tutti quanti continuamente, interiormente, felicemente, prostrati in continua adorazione e in continuo ricambio di questo amore infinito da parte dell'Altissimo, no? l'aria che respiri, il sibilo di vento, cioè, io spero che quando noi sentiamo queste cose, adesso non è quello c'è, io sto facendo semplicemente l'eco di quello che qui si legge, cioè, io spero sempre che la mia funzione, questo vale anche soprattutto per quando, come dire, commento la parola di Dio o i testi del Magistero della Chiesa, cioè, ecco, io credo che un ministro ha semplicemente la funzione di cassa di risonanza, sia un buon ministro, cioè, deve semplicemente io ho, uno potete vedere, insomma, ma quando leggo ho una pencil in mano che sottolinea, d'accordo? E quello che sottolineo lo ripeto e lo amplifico, lo enfatizzo perché non c'è niente da aggiungere, d'accordo? C'è semplicemente, dicevano i maestri medievali, soprattutto giuristi, facevano le glosse interlineari, no? Quindi, una glossa, come dire, è una semplicissima, come dire, è un appuntino messo vicino a una parola, insomma, di guardare che questa è importante, basta però, d'accordo? Quindi, una glossa non è un commento, è una cosa che serve semplicemente ad evidenziare un qualche cosa che è già oltremodo eloquente, ecco, diciamo così, no? Quindi, quello che ci portiamo, ci dobbiamo portare dietro, magari già adesso mentre stai ascoltando queste considerazioni, sta attento che io purtroppo non ci posso fare troppo attenzione perché parlando non mi posso fare molto attento al respiro, però, sapete, ci stanno adesso alcuni smartwatch che ti fanno fare l'esercizio della respirazione, d'accordo? Chissà per quale strano motivo, insomma, che tutti quanti questi salutisti che girano, però, sa prescindere dalle motivazioni, fermati, fatti qualche bel respiro nella divina volontà, senti il Tiamo di Dio nell'aria che tu respiri, quindi, fatti attento a questa operazione che la nostra anima compie in continuazione dentro di noi togliendoci, diciamo così, il problema, il pensiero, immaginiamo se io dovessi stare a pensare che devo respirare, quindi, cioè, se non dico faccio così, a un certo punto vado in apnea perché mi manca l'ossigeno, grazie a Dio, tutte quante le operazioni non coscienti le fa la nostra anima dentro di noi, attenzione, non è che le fa come le fa perché le sa fare, perché gli ha insegnate chi l'ha fatta, e ci toglie il pensiero, però ogni tanto dobbiamo metterci al pensiero, ecco, perché il senso di questa cosa, il senso di questa rivelazione che Gesù fa è che tu non prendi coscienza, nell'aria che respiri, c'è un ti amo di Dio, quindi ogni tanto goditelo, prenditi veramente questo minuto di tempo e fai una bella ispirazione ed espirazione, no? sapete che i pellegrini scusate, l'esicasmo orientale, quindi la cosiddetta preghiera del cuore, e questa è una cosa cattolicissima, non sono esercizi strani, insomma, di meditazioni, ecco, per esempio, Signore Gesù abbia pietà di me peccatore, loro lo facevano al ritmo del respiro, Signore Gesù espiro, figlio di Davide, quindi nell'ispirazione come dire, si intende esprimere la volontà che io voglio che il Signore Gesù entri dentro di me, quindi lo prendo, d'accordo? Abbi pietà di me peccatore, quello che io gli dico, no? Ma questo esercizio si può fare in tanti modi, tu puoi dire un bel Gesù ti amo, se vuoi fare un bel giro, ecco, facciamo un pochino di lezioni pratiche, ti fermi e fai Gesù mentre ispiri e poi ti amo, però vedrai come stai bene, vedrai, qui c'è un sacco di gente adesso che va in giro a fare le cose strane, le meditazioni profonde, gli yoga vari, insomma, no? Tra l'altro alcune di queste cose a quello che dicono insomma gli esercizi sono anche un po' da starci attenti, no? Ma la Divina Volontà ci ha già dato tutto quanto, ti vuoi rilassare un po'? Prenditi un pochino di ti amo di Gesù in questo modo, mettiti fermo, d'accordo? Fai un bel Gesù quando ispiri, ti amo quando ispiri, Maria quando ispiri e ti amo quando ispiri, così ti riempi anche di prova e così sentirai quel ti amo che Gesù ha messo nell'aria ancora il simbilo del vento vedete quando una persona comincia un pochino a a entrare in questi in questi scritti, no? Veramente quando tu esci che senti il vento ti viene il pensiero questo è un atto della Divina Volontà ti viene subito in mente dice ah il vento soffia dove vuole ne senti la voce come dice Gesù non sai dove viene e dove va se poi conosci un po' d'ebraico insomma sai che in ebraico ruach significa vento pensate significa vento guardate che veramente Dio è grande ruach in ebraico significa tre cose vento soffio soffio inteso proprio come il soffio vitale cioè il respiro e spirito tanta roba no? quindi senti di qualche bella carezza del vento no? ecco noi questo lo apprezziamo un pochino di più d'estate quando si muore di caldo no? che se ci troviamo in un posto dove tira un pochino di vento diciamo ah signore mio no? d'accordo o chi se lo può permettere beato a lui ci vado con la mia benedizione farsi un giretto sulle acque del mare con qualche gommone o qualche motoscafo o qualche barchetta no? quindi contanto con il caldo uno si prende il vento l'acqua del mare insomma che gli dà un pochino di refrigerio con queste sono tutte cose belle se si vivono nella nella divina volontà e quindi non sono cose cose brutte c'è modo in modo ecco nella divina volontà vi assicuro insomma si possono santificare divinamente tutte le vacanze possibili immaginabili di questo mondo dato che stiamo a giugno insomma e che non stiamo non stiamo lontano cioè le vacanze possono essere un momento di perdonatemi il termine un po' un po' bacchettone un momento di perdizione se uno le vive in un certo modo ma possono essere tu esci dalla vacanza ultra santificato se lo vivi in un altro modo sta sempre a noi la scelta di come vivere le cose che che Dio ci mette dinanzi il vento che ci accarezza che ci percuote e udino ancora il caldo e il freddo che sente il tuo tatto la percezione del caldo e del freddo pensate a quel bellissimo cantico che è il cantico dei tre giovani nel libro di Daniele che la chiesa mette nelle nodi mattutine della domenica della prima settimana quando c'è freddo e caldo benedite il Signore ruggiale e brina benedite il Signore gele e freddo benedite il Signore grahi e acce e nevi benedite il Signore no freddo e caldo freddo e caldo sono due creature dell'altissimo certamente prodotte dagli agenti che sono atti come dire a produrre calore e a produrre il freddo ma nella percezione sensoriale dice Gesù del nostro tatto che avverte il freddo e il caldo c'è il ti amo di Dio se posso dire scusate che sono così concreto quando uno si va a fare una bella doccia se uno si fa una bella doccia nella divina volontà comincia a fare un sacco di giri perché nell'acqua pensate in inverno quando fa freddo che uno si fa una bella doccia calda non c'è bisogno di girare una bella doccia calda di inverno è un refrigerio oggettivo che noi sentiamo però che succede che tu nella divina volontà questa cosa la coscientizzi quindi mentre avverti questa cosa ti prendi fai una preghiera quindi ti prendi quel ti amo di Gesù lo ringrazi te ne era allegro e ti dice ma che bello Signore che hai creato l'acqua calda che hai creato il fuoco che ti scalda l'acqua io posso in questo momento avvertire questa cosa bellissima che mi dà tanta come dire consolazione al termine di una giornata faticosa e te la ricambio con il mio ti amo per me e per tutti anche per quelli che godono di questa cosa senza mai averti detto neanche un grazie e averti rivolto nemmeno un pensiero questo è vivere nella divina volontà e in imparare quindi queste cose piano piano poi diventano un po' come dire veramente carne della nostra carne quindi puoi trovare un momento in cui dici adesso faccio un giro però questo deve diventare come dire è una vita la divina volontà quindi dovunque ti muovi dovunque ti giri a proposito di giri no e questo è una cosa veramente molto molto bella produce veramente un grandissimo proprio benessere proprio in senso anche psicologico d'accordo la nostra anima si campa meglio campando così senza bisogno se questo non costa una lira d'accordo costo di questa operazione zero d'accordo rischi di questa operazione zero controindicazione di questa operazione zero quindi può soltanto prendere tantissimo bene gratis senza rischiare di incorrere in nessun male quindi chi è chi è chi sarebbe così come dire sciocco e così stolto da non andare a prendere continuiamo questo bel giro ti amo nel sangue che scorre nelle tue vene per esempio no quando andiamo a fare una visita quando ci misurano la pressione quando facciamo l'elettrocardiogramma adesso anche qui i dispositivi anche gli smartwatch più evoluti ti fanno un bel elettrocardiogramma no e lì c'è il ti amo di Gesù il ti amo scorre nel sangue delle tue vene è fantastico ricordiamo sempre che Gesù ha rivelato a Luisa questo teniamolo sempre presente è che la Santissima Trinità è presente in noi sia nella nostra componente spirituale che nella nostra componente materiale questo la nostra componente spirituale è un po' più facile questo lo sapevano già da Sant'Agostino in poi veramente anche da per essere precisi da San Paolo in poi comunque con le nostre tre facoltà spirituali che sono la memoria l'intelletto e la volontà ma nel nostro corpo con in tre diciamo così dinamiche fondamentali del nostro organismo che sono il palpito del cuore la circolazione del sangue e il respiro quindi quindi sono ti amo in interrotti d'accordo che in continuazione Dio ci fa sentire attraverso la sua santa volontà e infatti subito dopo ti amo nel sangue che scorre nel tuo bene dice ti amo nel palpito del tuo cuore anche qui no? sempre farsi attenti al respiro mettersi una mano sul cuore proprio così fatelo se vuoi un consiglio fatelo mettersi la mano sul cuore e sentire il cuore che batte è una cosa stupenda una cosa bellissima e ritmare anche qui se volete un altro piccolo segreto il battito del cuore con un pochino di atti di amore con il cuore fa tun 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 no? e uno che lo ritma è un'altra come dire forma di di semplicissima preghiera cristiana profonda no? tun tun Gesù ti amo si accorda benissimo insomma con con il battito cardiaco quindi benissimo e al tempo stesso facendo questo tu ti prendi coscientemente godi anche se non lo percepisci in tutta la sua portata questo purtroppo non siamo più capaci di farlo perché l'abbiamo persa col peccato originale però comunque ti ricominci a godere il ti amo che Gesù ha deposto nel battito del tuo cuore che c'è ancora in ogni pensiero della tua mente il prodigio della nostra anima che pensa ora attenzione qui Gesù parla dell'atto del pensare poi purtroppo certo che certi pensieri possono essere cattivi però qui si sia sempre molto molto attenti a cogliere queste queste finezze l'atto del pensare è un ti amo di Dio cioè il fatto che noi siamo esseri pensanti intelligenti è un ti amo di Dio cioè io ho la forma di essere il grado di essere dell'uomo non del mio bel micetto che ogni tanto si vedrà qui dietro che mi sta girando insomma per casa che è un bellissimo grado di essere d'accordo quando si osservano gli animali nella divina volontà guardate che si vedono delle cose si possono fare dei giri stupendi specialmente quando alcuni animali piacciono abbastanza o si hanno delle grandi passioni no? perché in ogni animale c'è un atto distinto della divina volontà è un regalo particolare che il Signore ha fatto a noi no? penso che la vita di per sé cioè quando una persona vive per esempio nelle nostre grandi metropoli nelle nostre grandi città completamente da sola insomma senza senza manco un animale è brutta la vita insomma bruttarella insomma perché percepire il contatto con gli esseri viventi insomma è una città piena di 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 cemento armato non cesta manco un albero con magari manco un manco manco un ecco manco un uccellino che canta ecco c'è il mio gatto che mi sta divoccando qualcosa adesso di là per pazienza insomma lasciamolo fare insomma quindi in ogni pensione della nostra mente c'è un ti amo nell'atto del pensare ancora in ogni azione delle nostre mani anche qui farsi attenti il capolavoro che sono le nostre mani noi siamo abituati perché cioè ma il capolavoro che sono le nostre mani cioè è qualche cosa di veramente formidabile certo anche le mani capite un conto è il moto e l'azione della mano purtroppo non possiamo usare le mani per tirare gli sganassoni per tirare un pugno per fare dei gestacci purtroppo ecco per fare adesso non sporchiamo la meditazione per le considerazioni insomma le mani possono essere utilizzate insomma per fare tante cose brutte ecco limitiamoci a questo però con le mani possiamo fare anche tantissime cose belle quindi possiamo salutare possiamo tendere una mano adesso è proibito questi benedetti distanziamenti sociali però insomma possiamo dare una carezza insomma possiamo fare tante cose tante cose belle quindi possiamo fare cucinare fare dei lavori manuali rimettere a posto il letto la camera la stanza insomma no guidiamo sono infinite le cose no ecco però in ogni azione delle nostre mani ci untiamo così come in ogni passo dei nostri piedi è chiaro che anche qui i nostri piedi possono essere utilizzati in tanti brutti modi io posso anche muovermi pensiamo insomma un criminale che deve andare a un killer che deve andare a ammazzare qualcuno oggi forse probabilmente ci va con con la moto insomma però comunque per raggiungere la moto deve fare qualche passo a piedi se sta dentro casa no quindi insomma non sono dei però il muoversi dei piedi il passo è un ti amo e anche qui farsi attenti eh cioè farsi attenti quando camminiamo fatti attento quando cammini prendi coscienza di quello che stai facendo quindi non ascolta fatti attento proprio al movimento particolare che noi facciamo nel camminare no pensa a quanto è stato da Dio progettato in maniera perfettissima questo arto del nostro corpo no camminare è una cosa stupenda ma se uno studia cioè questa operazione che noi facciamo comunemente naturalmente insomma è un mezzo prodigio è un mezzo miracolo stare anche in posizione retta insomma come come stiamo noi quindi uomini no ancora ti amo in ogni parola il parlare che è ciò che distingue è un'altra cosa che distingue noi esseri umani no è chiaro che anche qui se si possono fare peccati con le mani fuggiamoci con le parole quante se ne fanno non so si va da quelli più comuni che sono parlare a vanvera o il parlare inutile questo chi è capace di evitare le parole inutili e di non parlare mai a vanvera è già molto avanti nella perfezione immaginiamo se parlare offensivo le bugie il mentire la maldicenza la volgarità le bestemmie insomma tutte queste cose orribili però anche qui in se stessa la parola è un ti amo di Gesù e Gesù spiega tutto niente succede dentro e fuori di te se non concorre un mio atto d'amore verso di te anche di questo cioè questa è un'altra cosa importantissima allora vi dico che la teologia questa cosa la sa già quindi queste parole che Gesù dice qui come dire possono suonare un po' nuove diciamo così quindi che stimolano considerazioni nuove a chi non ha studiato perdonate insomma è che così un po' di teologia perché chi ha studiato un pochino di teologia dogmatica sa benissimo ed ecco un'altra cosa insomma che la creazione e la conservazione nell'essere quindi il semplice accadere di una cosa ecco perché le nostre nonne analfabete da un punto di vista culturale ma molto alfabetizzate da un punto di vista di fede dicevano non si muove voglia che Dio non voglia quindi non c'è cosa non c'è accadimento che si verifica senza il concorso della divina volontà e quindi senza un atto d'amore di Dio comunque cosa anche che io prendo una penna e faccio questa operazione quindi la faccio cadere questa cosa non avviene fuori della divina volontà avviene dentro perché l'atto di far cadere una penna a parte che l'essere della penna dipende dalla divina volontà ma il farla cadere dipende dalla divina volontà anche da un punto di vista delle leggi della fisica che producono questa cosa perché la forza di gravità che noi sentiamo su questa terra è legge stabilita dalla divina volontà allora voi provate a immaginare quindi abbiamo fatto siamo partiti dagli atomi del sole e poi abbiamo passato in carrellata voi capite che significa come Gesù dice in ogni parola c'è un ti amo quante parole diciamo al giorno chi è che è capace chi è che c'è il contaparole sapete sui documenti su Word o su Pages per chi ha il McIntosh tu puoi mettere conteggio parole quindi puoi mettere in un documento tac conteggio parole dice 33.724 ma quante parole diciamo dalla mattina alla sera ogni parola è un ti amo di Gesù attenzione anche nelle attenzione qui dice in ogni parola ripeto per non essere frainteso è chiaro che le parole cattive non sono benedette da Gesù ma l'atto del parlare capite che poi viene rovinato dalla nostra cattiva volontà che usa la parola per insultare per dire parolaccia per mormorare per maledire cose di questo genere ma l'atto del parlare nell'atto del parlare scorre sempre il ti amo spero che questo sia chiaro quindi distinguere tra l'atto in sé in quanto tale e poi il contenuto dell'atto e chiaramente quando è cattivo non può essere benedetto da Dio questo è dovrebbe essere ovvio però è meglio spiegare per non essere fraintesi quindi immaginate se noi cominciamo a partire Gesù ha parlato degli atomi della luce quindi già contare gli atomi della luce se qualcuno è capace in diretta mi scrive un bel commento adesso o su Instagram o su Facebook oppure indifferita me lo scrive se vedete su YouTube me lo scrive nei commenti di YouTube oppure se sente il podcast mi fa una bella mail insomma se qualcuno è capace di contare gli atomi della luce del sole alzi la mano insomma ma poi l'aria che respiri chi è che è capace di contare forse gli scienziati cioè gli esperti in queste cose magari possono dirti in un atto di ispirazione forse avere un ordine di grandezza della quantità di aree che respiriamo con un atto di respirazione quindi quanti atomi ci saranno di idrogeno di azote di ossigeno in un atto di ispirazione forse sì ma in ogni tuo respiro quante volte respiriamo durante la giornata anche questo forse adesso che siamo super come dire informatizzati magari se uno si va su qualche Wikipedia magari trova un'informazione se tu stai sveglio per 12 ore oppure in 24 ore perché tanto respiriamo quando dormiamo tu fai 177.824 ispirazioni per esempio questo è un numero potente inventato no? capito no? quindi mi sto dirungando appunto perché questo è un giro che stiamo facendo questo è un giro che Gesù cioè se noi prendiamo coscienza di queste cose noi stiamo in atto di giro continuo capito? quindi la luce l'aria che respiri il sipilo del vento il caldo e il freddo che percepiamo ripassiamo il rassegno a tutte queste cose tanto ci fermiamo qui oggi non diamo oltre il sangue che scorre nelle vene noi sappiamo anche questo si può misurare quanti globuli bianchi e quanti globuli rossi ci abbiamo quanti leucocili e quanti linfocili quante piastrine io purtroppo non ho fatto una cultura di queste cose in circostanze drammatiche di molti anni fa insomma perché quando si hanno certe malattie purtroppo non mie quindi da malattie persone a me cari ci siamo fatti una cultura però il sangue la velocità di circolazione del sangue che si può certamente misurare il sangue circola in continuazione dentro il nostro organismo sapete che l'immobilità che è proprio l'anticristo l'antidio perché ecco l'immobilità è sinonimo di assenza totale di vita ma in noi guardate che in tutto l'universo non c'è niente che è immobile questo ha altra considerazione da fare cioè anche la materia inerte cioè se io prendo che ne so riprendiamo sta penna che oggi la facciamo questa penna qui ci sembra che sia ferma ma questa non è ferma cioè gli elettroni degli atomi di questa penna vibrano a velocità ben superiore a quella della luce d'accordo 300.000 km al secondo è la velocità della luce quindi questa sembra ferma noi adesso sembriamo fermi io non mi sembra che sto facendo ma noi stiamo su un'astronave che è la pianeta Terra che viaggia 108.000 km l'ora perché tale è la velocità della Terra nel suo giro che si fa in un anno intorno al Sole 108.000 km se non mi ricordo male più 1800 all'ora per tirare su se stessa d'accordo quindi dovremmo avereci tutti quanti un mal di testa che non finisce mai ma l'immobilità non esiste la circolazione del nostro casaco poi il palpito del cuore anche qui com'è il palpito del cuore secondo se ti fai una bella corsa puoi pure arrivare a 150 batti forse se sburi 160 al minuto insomma anche 170 forse se stai a riposo è una sessantina di batti del minuto quindi 60 ti amo al minuto non te ne deve nessuno insomma dell'altissimo ogni pensiero della mente la mente non si ferma mai non si ferma nemmeno quando dormiamo perché sogniamo d'accordo se non sogniamo comunque sia la mente non è mai a riposo Santa Teresa Davide chiamava la mente la pazza della casa quando si sentiva disturbata diciamo così nella preghiera dai pensieri che si accavallano il libro della sapienza dice questa cosa in maniera poetica stupenda la tenda d'argilla è gravata da molti pensieri fino a quando siamo in questo mondo immagine assai bella suggestiva che a me colpisce sempre molto e quanti pensieri dice ci furono per la nostra testolina ogni pensiero non ti amo ogni parola non ti amo ogni passo ogni movimento delle mani basta tutto questo? queste non sono chiacchiere non sono favole d'accordo? la nostra difficoltà è che dopo il peccato originale adesso queste cose Gesù ce le dice e noi dovremmo fare degli esercizi per prenderne coscienza ecco il giro d'accordo? quello che ho detto prima provate a respirare con calma Gesù ti amo mettiti una mano sul cuore sentiti il palpito quando vai fuori sta attento al vento che ti accarezza la faccia quando vai sotto l'acqua fatti attento a quelle carezze che l'acqua calda ti fa se st'estate te ne vai bella da te e se hai un bel motoscafo ecco ti do la benedizione fatti attento capito a quelle carezze che sentirai quando si muore di caldo e tu te ne vai a non so quanti nodi a prendere il vento e gli schizzi dell'acqua di mare no? sono continui ti amo siamo circondati allora imparare a fare questo ripeto produce un benessere proprio un benessere proprio ripeto spirituale ma psicologico straordinario perché la nostra anima vive dell'amore di Dio ma l'amore di Dio non dobbiamo pensarlo che bisogna fare chissà che cosa per andarla a trovare o avere chissà quale grande esperienza mistica chi ce l'ha che Dio lo benedica c'è tutta quanta la mia come dire ammirazione e santa invidia e beato lui però basta poco ecco e però poi lasciamoci provocare dalla risposta di Gesù e i tuoi ti amo quanti sono per me questo lo dice a me e questo lo dice a te quanti gliene hai detti fino a oggi quanti gliene dice ogni giorno e quanti ha intenzione di dirgli Luisa rimane sterrefatta dice guarda mi sentivo assordata fuori e dentro a pieni cori dal ti amo e i miei ti amo erano così scarsi così limitati che ho detto oh mio amante di Gesù ma chi mai può farvi fronte che dobbiamo fare cioè non potremo mai stargli dietro quindi facciamo a dargli che ne so quanti trilioni ma però ragazzi io vorrei chiudere ma ci rendiamo conto che noi ci becchiamo ogni giorno quanti trilioni elevati a non so quale potenza di ti amo allora lui di tutte queste cose da parte dell'Altissimo noi ci prendiamo ogni giorno guardate che sono tanti direggetelo questo questo e magari ripercorriamo insieme la meditazione e quindi qualcuno glielo dobbiamo dire anche noi mi raccomando insomma perché lo vedremo poi il senso del giro è proprio il ricambio perché Gesù il ricambio lo vuole vuole il grazie e vuole il ricambio non solo per noi ma anche per tutti operazioni che si fanno nella divina volontà perché amor che hanno l'amata ma il perdono questo vale per noi esseri umani ma vale anche per l'amore stesso per essenza che è il nostro Dio a bene carissimi ci fermiamo qui ci siamo fatti anche questa sera una bella overdose spirituale di tutte queste cose meravigliose speriamo che producano ottimi frutti insieme a me che in ciascuno di coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltare questa piccola fraterna condivisione Dio vi benedica se Dio vuole proseguiremo la prossima settimana Ave Maria